Ok, quindi ho visto che tu usi Interactive Brokers e DeGiro, se non sbaglio, no? Parliamo di... Ok, io uso Interactive Brokers da sempre. Molti amici usano anche DeGiro, oppure molti altri. In Italia tu, ora magari hai delle affiliazioni, quindi magari non può essere completamente puro il tuo consiglio, ma profilo molto della tua imparzialità. Mi sono piaciute moltissimo i tuoi video su Interactive Brokers e su DeGiro. Grazie. Rebo di che siano i migliori broker, che altro c'è di utilizzabile per l'Italia? Allora, di altro... Dunque, intanto non credo che siano i migliori in toto, perché per esempio Interactive ha uno scoglio abbastanza importante su cui sto cercando di lavorare, che è quello della dichiarazione fiscale. In Italia è un ostacolo, c'è chi te le fa a 30 euro, ma non è valida, perché semplicemente ti prendono la riga iniziale e la riga finale, ti calcolano la plusvolenza e te la mandano all'agenzia di entrate. Non funziona così, perché per esempio se hai avuto una fusione di una delle tue aziende in portafoglio, è un macello, va calcolato quasi manualmente. Uh, ok. E quindi al momento far dichiarazione in Interactive, se hai avuto soprattutto robe di questo tipo, può arrivare a costarti 400 euro o giù di lì. Mamma mia. Quindi non mi sento di dire che sia il migliore. È il migliore su certe cose, sicuramente. Così come su The Giro non posso dire che sia il migliore, perché alla fine a livello di prodotti manca le opzioni americane, cioè le uso un botte le opzioni americane. Quindi lo so. Io vivo in Svizzera. In Svizzera abbiamo, non so, sembra un po' un'isola, sembra veramente le isole Cayman, nel senso che io ho accesso a ogni cosa che non sia PRIP compatibile, cioè posso accedere a qualunque cosa, prodotti americani, Vanguard, dov'ho scelto negli US, ho il recupero della withholding tax americana, è fantastico, non ho capital gain, per cui in Svizzera investire è un piacere. Hai solo tasse sui dividendi, sui profitti in generale, tassate col patrimonio, per cui se guadagni tanto è reddito, non c'è una tassazione flat separata. Quindi per me l'arte di progressiva è una goduria. Io vado, ho anche real-time data sulle options ogni tanto, faccio un po' di options. Inclusi? Cosa? Inclusi? Sì, sì. No, beh, costa un dollaro al mese, ma si puntano sopra certi volumi, non lo so. Non è che faccio grandi volumi, però a quanto pare bastano. Io, ok, faccio un minimo di option trading, ma soltanto per ridurre la volatilità, quindi vendo delle cover and call o compro delle put laddove, vendo delle put laddove voglio comunque comprare. Certo, certo. Lo faccio per ridurre volatilità. Certo, logico. Comunque come altri broker in Italia, se uno è molto orientato all'europeo, quindi fa poca roba americana, directa non è male. c'è un'interfaccia che è tipo la TVS di Interactive Brokers, quindi sono entrambe un cesso. Io mi rifiuto, faccio tutto tra cellulare. Sono così passive. No, ma anch'io in realtà, però pensa che c'è gente che invece, per lo più chi fa trading, che dicono, no, ma la TVS se impari ad usarla è il top. Può essere, cioè nel senso, io dipendo su YouTube. Io su YouTube racconto sempre quello che ne penso io, quindi a me la TVS fa cagare, e dico, ragazzi, a me la TVS fa cagare. Poi può piacere o non piacere. Directa, so di alcuni che usano, no, aspetta, com'è che si chiama? IVBank, credo, che non si la... IVBank, quello... C'è Giusefineco, Giusefineco, il servizio replay. E ho visto che ha detto un scontato per i giovani. Non so se l'Under26 sia particolarmente contento di pagare comunque 4 euro ad eseguito, però li hanno scontati. Oh, c'è tanto. So che forse il replay ha dei costi più bassi, non lo so.